La Sicilia stretta dalla morsa infernale degli incendi, tre i morti, due operai forestali gravemente ustionati, evacuazioni e danni ovunque, rinforzi da altre regioni per domare le fiamme. Il fuoco ha assassinato due persone. Nei pressi di Cinisi, la città in provincia di Palermo di Impastato e Badalamenti, in una casa fatiscente in località Fondo Orsa, a poca distanza dall'aeroporto Falcone Borsellino, anch'esso lambito dalle fiamme, sono stati trovati due cadaveri carbonizzati, preda e vittime dell'incendio che ha divorato la zona. Si tratta di Salvatore Cometa, 78 anni, e Teresa Monastero, 76 anni. I due che avrebbero occupato l'immobile sarebbero stati raggiunti dalle fiamme, senza scampo. Ed ancora nel Palermitano, a San Martino delle Scale, una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pilliterri, in precarie condizioni di salute colta dalla febbre, è morta perché, a causa degli incendi, ai sanitari del 118, a bordo di un'ambulanza, è stato impossibile prestarle soccorso. La Sicilia è flagellata, centinaia sono stati gli interventi contro il dilagare del disastro e altre tanti sono in lista d'attesa. Lavorano 118 squadre di vigili del fuoco, abitazioni evacuate, alcune distrutte. Tra l'altro a Palermo sono stati investiti dei roghi, anche dei capannoni commerciali con un'automobile ed elettrodomestici. La discarica di Bellolampo è minacciati l'ospedale Cervello e la centrale elettrica di Terna. Tra il riposto e a Cirreale è stato evacuato un resort. Paura al parco archeologico di Segesta. Stop all'autostrada A19 tra Buonfornello e Scillato in direzione Catania, percorribile verso Palermo. Gravi disagi anche sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie, sulla 186 di Monreale, la 113 settentrionale Sicula e la 114 orientale Sicula. Due operai forestali sono stati ricoverati all'ospedale civico a Palermo nel reparto Gravi Ustioni. Il primario Enzo Guzzetta riferisce. Le loro condizioni sono serie e sono tenuti sotto stretta osservazione. Abbiamo fatto di tutto al momento per salvarli. La prognosi è riservata. Il presidente della regione Renato Schifani segue costantemente l'evolversi della catastrofe. Annuncia rinforzi e afferma. La situazione in tutta la Sicilia è ancora difficilissima, anche per le condizioni meteo che stanno complicando ulteriormente il lavoro di chi deve contrastare le fiamme. Sono in costante contatto con il corpo forestale, con la protezione civile, con i vigili del fuoco e la prefettura, per avere aggiornamenti nel tempo reale. Dal capo dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, il prefetto Laura Lega, ha ottenuto l'impegno a fare giungere in Sicilia ulteriori squadre provenienti da altre regioni, in quanto quelle in servizio in Sicilia sono già tutte impegnate nei vari fronti di fuoco che interessano tutto il territorio. Sono vicino agli uomini che in questo momento, con grande dedizione e coraggio, stanno contrastando le fiamme e voglio esprimere loro la gratitudine mia e di tutti i siciliani. Il mio pensiero va anche alle famiglie che hanno dovuto lasciare le loro case perché messe a rischio dai roghi.